Tu che fai? Studio per diventare attrice. Sei stata a Parigi? Mai stata da nessuna parte. Io so solo, April, che voglio sentire le cose, sentirle veramente. Che te ne pare come ambizione? Frank Wheeler, penso che tu sia la persona più interessante che abbia mai conosciuto. Siete solo a un'ora dal centro e c'è molto spazio per dei bambini, come potete vedere. Che ne pensi? Direi che mi piace molto. Non ti mancherà la città? Nulla è per sempre, giusto? Frank. Non possiamo continuare a fingere che è la vita che volevamo. Avevamo dei progetti, tu avevi dei progetti. Lo so. Guarda noi due, siamo cascati nella stessa ridicola illusione. L'idea che devi ritirarti dalla vita, sistemarti nel momento in cui hai dei figli. Era una bugia. Un uomo ottiene solo un paio di occasioni nella vita. Dopo un po' si ritrova a chiedersi com'è che è diventato una seconda scelta. Ci vuole spina dorsale per la vita che vuoi. Ti mantengo, non è così. Fatico dieci ore al giorno per un lavoro che non sopporto. Non sei tenuto a farlo. E poi chi ha imposto queste regole? Solo perché mi hai messa al sicuro in questa trappola, credi di potermi obbligare a provare quello che tu vuoi che io provi? In trappola! Quando è che ci è accaduto, Frank? Il candidato all'Oscar, Leonardo DiCaprio. Possiamo essere felici qui. Io posso renderti felice qui. Andrà tutto a posto. La candidata all'Oscar, Kate Winslet. Dobbiamo essere uniti in questo. È la nostra unica occasione. Revolutionary Road